Ciao a tutti, io sono Marco Ferrari ed oggi vi accompagnerò in un nuovo viaggio alla scoperta di tutte le novità e delle macchine presenti qui da Gruppo Carmeli. Oggi andremo a conoscere nel dettaglio la nuova Fiat 500 Cabrio Hybrid Dolce Vita. Il primo dettaglio che salta all'occhio è il contrasto fra il colore della capote e la brillantezza della carrozzeria. Brillantezza non data soltanto dal colore ma anche dai dettagli cromati che troviamo sul paraurti anteriore, sulle calotte degli specchietti, sulle maniglie e sul portellone posteriore. La nostra Fiat 500C Dolce Vita ha anche un'anima profondamente elegante che si può notare dal marchio situato sulla fiancata e anche dai fari fendinebbia. 500C dove la C sta per cabrio, il pezzo forte della nostra macchina che ci permetterà di godere appieno del bel tempo durante i nostri viaggi. Ora invece passiamo agli interni della nostra 500C Dolce Vita. Appena ci sediamo possiamo notare il nuovo bellissimo e totalmente ridisegnato volante che grazie ai suoi otto tasti ci permette di avere il pieno controllo sulle funzioni della nostra auto. Subito dopo il volante abbiamo il nuovo display TFT da 7 pollici e se spostiamo lo sguardo dal cruscotto possiamo notare il nuovo climatizzatore che ci permette di avere il controllo sulla temperatura interna della nostra auto. Spostiamo ulteriormente lo sguardo sui sedili dove possiamo notare la cura maniacale dei dettagli e del perfetto stile italiano inconfondibile. Sedili posteriori che sono anche più spaziosi così da permettere di avere più spazio di carico in caso di necessità. Torniamo davanti e dedichiamoci all'infotainment ovvero a tutto ciò che riguarda la connettività della nostra auto. Abbiamo a nostra disposizione un bellissimo display da 7 pollici dotato di radio Uconnect, navigatore, DAB e soprattutto è compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Ma non è finita qui, la Fiat 500C Dolce Vita ha una tecnologia avanzatissima che ci permetterà di guidare in totale sicurezza e tranquillità. Grazie al cruise control infatti possiamo impostare la nostra velocità di inizio viaggio e mantenerla per tutto il percorso. Partire poi in salita non sarà più una difficoltà ma sarà un piacere grazie alla funzione e-holder che ci permetterà di evitare tutte quelle discese inaspettate del mezzo. Infine la nostra Fiat 500C Dolce Vita possiede 7 airbag, uno per il guidatore, uno per il passeggero, airbag laterali e uno posto in fronte alle ginocchia del guidatore. La 500C Dolce Vita non è soltanto icona di stile ma è anche icona di sostenibilità grazie al motore con la sua tecnologia hybrid, tecnologia del momento, motore con 1000 di cilindrata e 70 cavalli di potenza. Infine vi ricordiamo che la nostra macchina è disponibile anche in diversi colori come il bianco gelato, il grigio Carrara e il rosso Passione. Anche dei bellissimi pacchi interni disponibili come il Comfort, il Navi, il Tech Plus e lo Style e tanti altri. Tutto questo è possibile venirlo a vedere in totale sicurezza di persona nelle nostre sedi outlet multimarca di Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo oppure dove mi trovo ora a Coccaglio. Per avere maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 030 77 24 011 oppure andare sul nostro sito www.gruppocarmeli.com. Vi aspetto nel prossimo video.